Natalia Paragoni, chi è, età, lavoro, chi è fidanzato Andrea Zelletta, incinta, foto Instagram. Dopo le puntate speciali dedicate al grande Maurizio Costanzo, scomparso esattamente una settimana fa all'età di 84 anni. Nella sua Roma, Silvia Toffanin è pronta a tornare in onda su Canale 5. Perché è davvero difficile immaginare un weekend senza verissimo. E la padrona di casa è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo e del cinema. Che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all'amore. Proprio come faranno anche Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, i due si sono conosciuti a uomini e donne e ora stanno per diventare genitori, per la prima volta. Natalia Paragoni è nata a Piantedo, Sondrio, il 24 dicembre 1997 ed è del segno zodiacale del capricorno. Nonostante la sua giovane età ha già da tempo iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro. Come modella e ombrellina nelle gare di MotoGP. Dopo il diploma all'FSC Luigi Clerici Natalia ha lavorato anche come estetista. Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, sul trono Andrea Zelletta. Il giovane pugliese che si è innamorato di lei è la scelta. Ora, a distanza di anni. Sono sempre più affiatati e complici nonostante qualcuno mentre Andrea era nel grande fratello avesse parlato di un presunto tradimento. Niente pare scalfire il loro amore. Natalia oggi lavora come modella e influenciere vive a Milano con il suo Andrea. Ha lasciato, quindi, la Valtellina e la famiglia per trasferirsi nella capitale della moda. Oggi su Instagram è seguitissima, realizza tutorial sul trucco e nel 2021 ha anche pubblicato il suo primo libro La vita secondo nati. Dove ha deciso di mettere nero su bianco le sue vicende personali, dall'aborto spontaneo e i maltrattamenti subiti da un ex compagno. A Uomini e Donne Natalia ha deciso di partecipare come corteggiatrice, prima di Ivan Gonzales, spagnolo, poi di Andrea Celletta. Quest'ultimo si è innamorato di lei e la scelta è ora. Nonostante siano passati anni da quel giorno, i due sono complici, affiatati e innamorati come non mai. Presto, tra l'altro, diventeranno anche genitori per la prima volta. Il profilo Instagram di Natalia è disponibile con losermame Etnati Paragoni dove posta spesso foto e stories della sua vita privata. E qui conta su un milione di followers. Il profilo Instagram di Natalia è un film 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 di Natalia. Grazie.